La rete che unisce scuola, formazione e lavoro è stata al centro del convegno Mettere in connessione in tempi di trasformazione digitale che è stato inaugurato dall'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco all'auditorium di Santa Pollonia a Firenze. Al centro le prospettive future del sistema Trio, il sistema di web learning toscano basato sulla condivisione dei saperi in ambienti open source. Trio si inserisce in tutto questo panorama, Trio ormai ha 20 anni, è stato il sistema di formazione a distanza più avanzato in Italia e uno dei più avanzati a livello europeo, ha avuto tanti riconoscimenti, adesso aveva bisogno di un restyling che non è solo un restyling di interfaccia che sicuramente è molto più amichevole, molto più friendly come si dice ma è proprio un ripensamento anche di contenuti e di modalità anche in qualche modo di fruizione. E infatti il sistema Trio anche nella sua ultima versione si è confermato una delle piattaforme di e-learning più aggiornate e soprattutto a misura di territorio per poter essere il nucleo di progetti innovativi e che l'esigenza di fare rete sia sempre più sentita lo ha dimostrato la folta platea in cui erano presenti i rappresentanti del mondo delle imprese, della scuola e della formazione oltre che delle politiche attive.